Il mio amore si chiama Margherita, sabato ci sposiamo e questa è la miglior settimana della mia vita. Io lo amo mamma. Perché? Ma perché? Quando tutto gira male. Sì, sono sto partendo. Preparati. E senti i rumori della stazione di fondo, amore? Senti? Il peggio deve ancora venire. Decide, vanno. O te stimo. Piantala. Lo sai che ti vogliono bene? Ci hai provato con mia moglie. Hai ammazzato il nostro cane. E ora hai ucciso anche mia madre. Ma non è morta? Nonna. Nonna. Tu, mia figlia, non la sposi. Ma papà, io lo amo. Per quanto mi riguarda il matrimonio è annullato. Ma che sta cucina? Ma che è successo? Ma che città cucina? Paolo, ti piacerebbe fare un giro su questa giostra? Dal 28 ottobre al cinema.